La scorsa volta ci siamo sui dati per 100.000 miseri dollari Invece stavolta ci saranno in palio ben 1.250.000 dollari Sei pronto? Assolutamente sì Sto cercando di scappare ovunque, te lo dico Un'ammazzata golf da proporti Vieni qua Ah, finché non mi prendi non ho perso Eh, lo so, ma prima o poi si stanca il tuo personaggio, eh Eppure il tuo, quindi Vediamo Vienno Ti ammazzo Non mi fare mai più queste cose E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stef, che si chiama GTA 5 E siamo tornati con un'altra fantastica challenge Questa volta si tratterà di un nascondino davvero estremo Estremo soprattutto perché ci sono in palio tantissimi, tantissimi soldi Esattamente Mettiamo in palio una card share che dà 1.250.000 dollari Vi starete chiedendo perché? Molto semplice GTA Online, quindi la serie dell'online Da ora in poi avrà un episodio che avrà a che fare con il Motorcycle Club E un episodio che avrà a che fare con il SEO Quindi chi vincerà questa sfida comprerà l'ufficio Solo uno di due ce ne avrà, l'altro sarà un dipendente di chi compra l'ufficio Quindi Mi sto già immaginando te come mio dipendente Proprio sto già avendo questa visione Hai già perscontato la tua vittoria, mio caro Non l'ho perscontata, ma voglio vincere Di nuovo sfida uno contro uno Assolutamente E un nascondino estremo non solo perché ci sono 1.250.000 in palio Ma anche perché non solo devi trovare l'altro come nascondino normale Ma lo devi pure prendere ammazzate Ammazzate proprio letteralmente Esatto In modo letterale bisogna seguirle Prendere le ammazzate Quando uno riesce ad ammazzare l'altro fa un punto Abbiamo tre round Cinque minuti a testa per trovare l'altro Chi parte a nascondersi? Un'altra cosa importante prima che mi dimentichi Ovviamente abbiamo nascosto il radar Quindi non ci possiamo vedere a vicenda nella mia mappa Lo vedete già in basso a sinistra No perché altrimenti sarebbe semplicissimo Quindi giustamente era giusto per puntualizzare Vai tu Vado? Mi nascondo? Allora mi devo mettere tipo qua in un angolo In modo che io veda solo il muro e non vedo dove vai Ok Anzi proprio non guardo Allora Quanto tempo hai per nasconderti? Facciamo 30 secondi No? Più o meno Regola importantissima non guardi il mio schermo Perché altrimenti siamo fregati A parte che è buio e non lo vedo Altri 10 secondini più o meno puoi partire Perché sto finendo di nascondermi Sto cercando un posto molto interessante Ok Vai 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 puoi iniziare Ok scendo Che poi siamo partiti da un palazzo altissimo Esatto È un disastro solo scendere da qui Guarda E mi lancio No Guarda che poi muori Mi lancio Allora aspetta che avvio Un timer da 5 minuti Poi spero che in editing troveremo il modo di metterla una roba da 5 minuti Comunque Certo Noi ci mettiamo col telefono perché In questo modo rispettiamo 5 minuti Ok l'ho avviato Cioè c'è due ore per scendere Ce l'hai fatta scendere No Cioè ci sono 850 piani di scale Il tempo scorre Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Il tempo scorre mia cara Allora 5 minuti sono tanti ce la posso fare Lo so Sai che ti vedo ogni tanto Come fai a vedermi È perché ogni tanto mi sei già passata vicino No allora non sei da queste parti È un indizio eh Però è divertente guardarti O magari mi stai fregando Eh chissà Perché mi potresti anche fregare E infatti potrebbe essere una trollata È difficile Questo è un gioco con le menti Eh lo so sto cercando di controllare Prima di tutto ovunque Eh fai bene fai bene È un'ottima cosa Niente Eh no per ora no Sicura magari sono lì nell'angolino Non hai guardato bene Stai zitto guarda Allora sto controllando proprio in lungo e in largo Sono andata anche fino alla fine della nave Ma ancora non ti ho trovato Bravissima Sì 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 Un accidenti ti sei messo Eh chissà Ho avuto una buona strategia per la prima round Funzionerà solo per un round Però ne vale la pena Dici Eh sì Solo per un round può funzionare questo nascondiglio Assolutamente Prima o poi ti accorgerai di me E sarà un bel guaio Ma dove cavolo sei? Ma com'è possibile? E poi è pieno di container Guarda che ci sono un sacco di vicoletti Un sacco di fusi Eh lo so è quella la cosa più difficile Dove ci si può nascondere Il tempo scorre Mi stai fregando Sono passati tre minuti No non ci c'è non ti trovo Mia cara Fenichi Io ti dico già che poi faccio schifo a nascondiglio Cioè sono di quelle che quando si nasconde bene Sempre trovate in 0 secondi virgola 1 Capito? Io mentre sono nascosto Sto già pensando a che poltrona comprerò Nella nuova ufficia Ma sai perché c'è una vasta scelta Posso prenderne una da dottore Una da avvocato Una in pelle Una in finta pelle Una in soffa Insomma Magari un divano A posto della poltrona Ho tante scelte Quindi comunque ci rifletto bene Non ti trovo Poi mi squilla il telefono E mi distrae Mi sto arrabbiando Ma dai ma guarda che ci sei quasi a trovarmi Sei vicina tutto il tempo No è impossibile questa sfida È impossibile Io te lo dico Eh adesso Ma perché Stefano è troppo furbo I consolini Secondo me stanno sghignazzando Ridacchiando su di me tutto il tempo Da 4 minuti ormai Perché ti ho trollato malissimo Però ancora non ti do Allora aspetta Se mi hai trollato Probabilmente è tipo un non nascondiglio Esatto Vedi vedi Nel senso che magari sei sotto i miei occhi Però continuano a vederti Brava Perché io sto cercando qualcosa Esattamente Stai iniziando a capire qualcosa Certo Conoscendoti Non è che sia poi così difficile Beh Conoscendomi Però ci hai pensato dopo 4 minuti O no sta diventando giorno Questo è un problema per Stef Cosa vuol dire? Eh Sei com'è La notte mi dava una mano In questo nascondiglio Ancora 40 secondi Dove sei finita? No non ti troverò mai Ok Eh sì No più o meno No sì 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 Lì Girati E guarda in alto Sì vabbè Mi vedi? Aspetta un attimo No non ci devo fare Te lo meriti Lo sapevo che eri in alto Ho detto non può essersi Perché non ho guardato? Non può essersi nascosto lì Allora Ho fatto non può Cioè è troppo banale Io non so se tu hai realizzato Ma ero a fianco da dove tu sei partita Perché quello lì praticamente tu scendi la prima scala Sì e vabbè tu pensi a scendere Capito? Esatto Non è che controlli Lo sapevo guarda Pronta? Prontissimo Allora Nascondiglio schifoso Te lo dico Sì? Non sei convinta? No Allora Però posso scappare Quindi sto pensando a tutte possibili vie di fuga Ok Allora Perché è l'unica cosa che mi interessa Sono già pronta a dover correre Allora Aspetta un attimino Sì? Sono talmente messa male Ok Che non riesco neanche a vedere oltre il mio nascondiglio Perfetto Quindi non ti vedo Ah forse riesco a vederti così Ok Allora Avvio Partito il timer Sì Posso andare Ma cosa succede se magari mi becchi Però ti ammazzo io Che vinco io? No non vale ma tu puoi solo scappare Ah ok 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 Però io ho 5 minuti per doverti ammazzare Però solo con armi Appunto corpo a corpo Ok Allora questa qua è una delle zone dove secondo me ci si può nascondere meglio Cioè sei già qua Ma dai ma Fai schifo Ma sei tu che fai schifo a nascondino Allora E fa pure le scale con calma la furba Eh perché il personaggio è lento Scappo Vieni No dai mi Mi si è messo Dannazione Mi ha risalito la scale Vieni qua Sei dietro di me Non mi posso rinascondere No no sono dietro di te Accidenti a te E sono pure vicino Hai girato a destra E ora Dove è finita? Ma che sta andando a me Eccolo 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 Ma non puoi Salgo Salgo Sale Attenzione Salgo le scale Dove vai? No mi sono in casa Mi butto in acqua No non vale E sono caduta Dai ti sei buttata Ma dai ma che cosa ti butto in acqua? Ma ti sembra un buon piano Aspetta ritorno Ritorno Riavvio E non so neanche dove sei Ti ho lasciato questo vantaggio di nasconderti Allora l'ho viato Sì Un minuto e venti è passato E cavolo Ma dai Io non ti vedo Non ho idea di dove sei Ti vedo solo se sei davanti a me Cioè è una cosa terribile Sto cercando di scappare ovunque Te lo dico Un'ammazzata golf da proporti Vieni qua Ah perché non mi prendi Non ho perso Eh la so ma prima o poi Si stanca il tuo personaggio Eppure il tuo quindi Vediamo Vieni No Ti ha ammazzato Non mi fare mai più queste cose Boom Yes Questa è colpa del personaggio Che si incastra ovunque Cioè l'hai visto? Si è incastrato L'hai visto? Fa schifo Però ti ho fregata Facendo il giletto Vedi è più divertente così Si assolutamente Non solo bisogna nascondersi Ma anche acchiapparsi Trova un nuovo nascondiglio E non so dove farlo Questo Allora 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 Dove accidenti puoi essere? No Non è possibile Per pochissimo Sarebbe il nascondiglio perfetto Quello Ehm Qui Va benissimo Non mi troverai mai Si si Eccoti No Eccoti No No Pensavo non mi avessi visto E' andata dritta Eh no Li contro Vieni qua Dove stai andando? Scappo Devo correre Dove accidenti sei andando? Cioè mi ti ho perso? No no Ti vedo Ti vedo Lontano insomma ti vedo Perfetto Perfetto Opla Vieni qua Opla No Lasciami Non puoi resistere a lungo Dove accidenti sei? Guarda che corri velocissimo Come accidenti fai? Sei una cazzella Vieni qua Lasciami in pace Poi sai Sai perché ti ho trovato? Perché non ho dei nascondigli che avevo pensato pure io Quindi ovviamente l'ho controllato Ma stai dietro di me Sì non è possibile Gino Vieni qua Salgo Sali Io rinuncio eh Te lo dico Rinuncio Dove stai andando? Dove stai andando? Dove è finita? Dove stai andando? Dove sei finita? Scendi giù No Scendi giù No grazie Scendi giù No Eccoti L'ho attaccato No 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 È geniale sta cosa È davvero geniale Tre minuti Non impierire sul mio corpo Non ci provare Io non l'ho fatto sul tuo Ok? Oh mio dio È fantastica È fantastica Te l'ho detto che era bellissima Davvero Non me lo aspettavo così Cioè la parte migliore Poi è acchiapparsi Certo Non tanto il nascondino Perché il nascondino è quella che è È fantastica Mi fa male la faccia Da quanto sto ridendo Giusto per dirti Guarda Io iniziavo a sperarci In questo In questo diciamo Non darti il punto E invece siamo uno pari Eh sì Non è semplice Non è semplice Sono pronta Posso tornare? Sì Sì Arrivo mi lady Non ho idea se sia buono Oppure no Ti dico la verità Allora Avvio e salgo le scale Ok Dove ti stai nascosta? Ti ho lasciato un bel po' di tempo Quindi spero che hai trovato Un buon nascondiglio Non lo so Perché ripeto Nel momento in cui ti nascondi Non è che vedi bene La visuale che può avere l'altro Quindi non è che capisci Se tipo da lì giù Tu mi vedi Capito? È un po' strano Non è semplice E proprio per quello Bisogna anche acchiapparsi E non solo trovarsi Altrimenti sarebbe davvero Impossibile sopravvivere Ti sarei dovuta rinascondere là Perché nessuno avrebbe ricontrollato Due volte nello stesso posto Invece tu ricontrolli Io ho ricontrollato subito C'è la prima cosa che faccio sempre Togliersi Esatto I dubbi Secondo me è sempre la cosa più importante Secondo me è la cosa migliore Però se ci pensi Nessuno controllerebbe Quindi anche quello è un buon piano Ma ci sono delle persone a lavorare adesso Buongiorno Avete visto Ferenichi? No Vi pago 50 monete No, grazie Perché state scappando? No ragazzi 50 dollari Oh no Ho capito che cos'è Questo è un grosso problema Cos'è successo? Ecco qua è partito Lo sapevo No Steph il magnifico Ha iniziato un attacco banda Perché ha iniziato un attacco banda? Perché è arrivata una banda qua Non so perché Mentre giocavo Oh mio dio Oh mio dio Vabbè io continuo a cercarti Oh mio dio Che ho giusto una difficoltà in piovere Delle persone che mi cercano di sparare Aia non è possibile Sembra che li ho fatti fuori tutti Ci è voluto un po' Che faticaccio È stato un lavoraccio Però posso tornare a cercarti Allora Sinceramente ormai penso di essere quasi sicuro Su dove sei Perché comunque Grazie a te Ho visitato praticamente tutta la nave Mancano soltanto le parti più alte Quindi Mia cara Lassi da qualche parte qui No ma ce n'è ancora uno Ma Non me l'aspettavo sinceramente Perenichi Sei vicina vero? Non ti dico no Stai visto guardando il mio schermo Disgraziata Perché non vedo da qui Quindi non so quando arrivi Devo anche prepararmi a scappare Capito? Aha Va bene Non sei neanche qui Vediamo se riesco a vederti di così È andata proprio in alto eh È abbastanza Dove sei? Manca poco Alla fine Cioè ti sei messo nel mio nascondiglio? Guarda spero che mori lanciandoti E infatti Non era un buon piano Vada pure milady L'aspetto con ansia Sei già qui in zona Sento la tua tastiera che ti stai muovendo No no Sicura? Ti sbagli Sei ridicolo No Vabbè guarda il mio personaggio è ancora più ridicolo di te Parkour Dove sei? Dove stai finendo? Vetti ho seminato e ho fatto un parkour incredibile Ti vedo ti vedo ti vedo Sono stato velocissimo Dai speravo di durare almeno un minutino Dannazione Non è possibile Sì ma lo sai che controllo sempre sopra? E lo so però Dove sei finito? Speravo che non mi notassi Non ti vedo più E lo so sto facendo un buon gioco di corsa Sono disgraziata adesso poi col buio Aha Dove accidenti sei finito? Eccoti 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 Sei sopra da qualche parte No La cosa brutta però è che si vedono i nicki in lontananza No No dai Ce l'ho fatta E sono durata bene Cioè ti ho trovato prima di quanto mi trovassi tu Sto recuperando Che bello Però vedi che anche tu sei morto perché sei incastrato Terribile Ultimo round giusto? Se sopravvivi È pareggio Se non sopravvivi Ho vinto io Allora quanti sei tu? Cioè non ci sto più capendo nulla io Allora questa Io ne ho fatti due È il terzo round e il terzo step Quindi è il tuo terzo nascondiglio Quindi se io ti ritrovo vado a 3 a 2 Quindi 3 punti e tu 2 punti Sì Se non ti trovo andiamo sul 2 pari Ed è pareggio Ok 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 ho capito ho capito ho capito Nasconditi e poi partiamo Ci siamo mia cara? Vai È terribile questo nascondiglio Non ne sono più rimasti Eh lo so abbiamo provato tutto È difficilissimo abbiamo provato di tutto Infatti a questo punto regnano i giochi mentali secondo me Eh esatto Che il nascondiglio è vero e proprio Però è le tenebre dalla tua parte Non è un buio totale Ma è già un buon buio Quindi diciamo che non è male per te Eh vedi Non lo puoi sapere dove sono No Come hai fatto? Io non vedevo nulla da qui Scappo Non ho fatto in tempo Pensavo che mi avessi visto Quindi non ho messo la mazza E ho provato a prenderti a pugni Non ti vedo Perché praticamente Essendo attaccata lì Vedi solo il grigio Capito? Stavo cercando di capire Se eri in zona dal tuo schermo Perché non si capisce nulla Vieni Ma ne vado Ma ne vado Dove corri? Facciamo schifo a nasconderci Lo so Allora quindi ti vuoi arrampicare Te la vuoi giocare così eh Che fai? No Non prendere le scale Accidenti a te Shbim No te ne devo dare un'altra Shbim Dai è stata divertentissima Era ovvio che Steph avrebbe vinto Perché Steph è il numero uno Ma non ci provare guarda Comunque alla fine ho vinto solo per la trollata iniziale Guarda non pensavo che avrebbe avuto così tanta importanza in questa sfida No ho fatto pari Alla fine ci siamo trovati Trovati tutti e due Capito? Esatto Molto divertente Volevo dire Prima che mi vestisti Ok Sto ignorando proprio volutamente Che è super divertente Lo potremmo rifare in qualche altra ambientazione In qualche altro posto Assolutamente E c'è addirittura anche una modalità Slasher Eh slasher esatto Bravo non mi veniva E lì praticamente sarebbe fighissimo giocarlo tutti assieme Magari anche con i consolini C'è praticamente uno con Penso una moto sega Che deve cercare tutti È una figata Spera che si riuscite il giudice di lasciatrici un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di stream Per non perdermi gli altri video Ciao Alla prossima Ciao ciao